L'Italia delle province, uno dei comparti burocratici più arrugginiti dell'apparato amministrativo, sta per mettersi in moto. Il 15 settembre è la data fissata per la conferenza Stato-Regioni che sancirà l'accordo definitivo per le competenze delle nuove province o aree vaste uscite dalla riforma del Rio Svuota Province dello scorso aprile. Un'intesa importante sul piano tecnico e su quello simbolico perché scuoterà migliaia di comode poltrone e metterà a soquadro migliaia di placidi uffici. Secondo le prime valutazioni circa 30.000 dipendenti delle vecchie province sui 60.000 totali lasceranno il loro posto per cambiare titolare. Nessuno perderà lo stipendio e la ristrutturazione sarà concordata con il sindacato. I circa 30.000 lavoratori saranno assegnati alle regioni, qualcuno sarà assorbito dai comuni, altri torneranno alle aree vaste. È possibile che qualcuno finisca al Ministero del Lavoro o nei tribunali in carenza di personale. Questa ristrutturazione toccherà anche le Marche, in particolare quattro delle cinque province regionali. Pesaro, Ancona, Fermo e Ascoli. Macerata dovrà attendere la fine del mandato amministrativo prevista per il 2016. Con la riforma del Rio sono stati soppressi gli amministratori, 4.000 circa in tutta Italia, tra presidenti, assessori e consiglieri. Ora le province saranno guidate da sindaci o ex presidenti eletti da sindaci e consiglieri comunali. I nuovi enti di secondo livello si occuperanno solo di manutenzione di strade e scuole superiori e di pianificazione del territorio.